Sono ancora tanti, troppi comuni calabresi che rischiano di vedersi sospeso qualunque tipo di contributo regionale, ad eccezione dei fondi POR 2007-2013, se non verseranno le cifre di cui sono morosi nei confronti della regione per quanto concerne il servizio di conferimento dei rifiuti solidi urbani. Agli inizi dello scorso mese di maggio alcune amministrazioni hanno versato una nuova percentuale del debito, ma si è ancora lontani dall'azzerare quello che per la Calabria è un vero e proprio buco nero. Mancano all'appello infatti 28 milioni e mezzo di euro, in cui sono raggruppati i debiti e i contratti nel 2013 e nel 2014. La cifra rispetto allo scorso mese di aprile è diminuita di 6 milioni e mezzo di euro, ma non abbastanza per dire che i comuni sono fuori pericolo. In tutto sono 151 le amministrazioni a rischio, quella sull'orlo del Baratro e Reggio Calabria, la città dello Stretto, con i suoi 9 milioni e 800 mila euro di debito sui rifiuti, copre quasi un terzo del totale della cifra mancante. A seguire, ma a netta distanza in termini di accumulo del debito, è Cosenza, che deve alla regione 2 milioni e 600 mila euro. Hanno azzerato invece tutti i loro passivi Catanzaro e Vibo Valencia, che si sono rivelate virtuose. Hanno quasi abbattuto il debito comuni come Cetraro e Mileto, che in poco tempo hanno quasi estinto la cifra, ferme invece sulle loro posizioni città come La Mezzia Terme, Bagnara, Paola, Strongoli, Cariati, che non sono riuscite negli ultimi tempi a pagare neanche un centesimo. Tiziana Bagnato per la CNews24.